a vietri sul mare proseguono gli appuntamenti della summer edition degli incontri di cultura della congrega letteraria questa sera mercoledì 7 luglio nel secondo degli incontri di cultura il protagonista sarà il compianto franco battiato a parlare del poeta della musica saranno il professore alfonso amendola docente di sociologia degli audiovisivi sperimentali dell'università di salerno e il giornalista e critico musicale carlo pecoraro l'incontro si terrà alle ore 19 presso i giardini dell'hotel bristol grazie al sostegno dell'assessorato alla cultura del comune di viezi sul mare e della locale proloco nella sua lezione racconto intitolata dalla distopia al pop a attraverso la via del sufi il professore amendola analizzerà la crescita musicale di battiato mentre il critico musicale carlo pecoraro analizzerà quelle che sono state le sue trasformazioni musicali domani invece spazio alla figura di dante alighieri ad illustrarci appuntamenti in programma per tutto il mese di luglio il direttore artistico della manifestazione alfonso mauro quest'anno in genere noi dedichiamo gli incontri di cultura all'autunno quest'anno abbiamo deciso di usufruire di queste belle serate estive per anticipare un poco della nostra molto cospicua programmazione di quest'anno e ai tanti amici che vi seguono farà piacere sapere che mercoledì 7 luglio sempre presso i giardini dell'hotel bristol che molto molto cortesemente ci accolgono un omaggio trasversale a franco battiato dovremmo essere non tra i primissimi ma quantomeno tra i primi ad omaggiare in un evento pubblico il maestro che ci ha appena lasciati franco battiato proseguiremo poi il 9 luglio con i professori chirico dai notti e galdi già sindaco di cava dei tibeni con la presentazione del libro citardante espressioni dantesche per l'italiano di oggi questo presso la nostra sede storica che è l'arciconfraternita a via san giovanni 13 quella con gli affreschi del settecento proseguiremo poi il 15 luglio con un alexio magistralis del professor roberto miraglia dell'università bicocca di milano da david hume ai controlli del vaccino anticovid teoria controfattuale della causalità e randomize control trials in professore miraglia partendo dagli assunti del noto pensatore empiricista inglese arriva a dettagliarci come questa branca della filosofia venga anche applicata nella ricerca scientifica e nello sviluppo dei vaccini che tanto ci stanno aiutando in questi tempi e ci avviamo poi a terminare con una lezione magistralis del professore Puccio dell'università di Padova la divinazione sulla scena Tiresia come personaggio teatrale tra Euripide e Camilleri poi una serata dedicata alle proiezioni cinematografiche sempre presso l'oratorio dell'arciconfraternita il 23 luglio profondo sud storia documentario e mezzogiorno a cura dei professori mariangela parmieri ed hernan vargas e termineremo con il talk presentazione del libro i favolosi 60 dell'autore giornalista Gabriele Boiano scrittore sul Corriere del Mezzogiorno c'è da dire che questi tanti eventi sono non soltanto la come accennavo prima una sorta di prima metà della nostra programmazione di quest'anno molto seguirà da fine agosto in poi ma si vanno ad alternare sempre a luglio con gli eventi di cui la congrega letteraria è partner organizzatore media partner presso il nostro main sponsor le vigne di raito ovvero il teatro in vigna sono delle delle serate enoteatrali concepite in collaborazione con il piccolo teatro del giullare di salerno grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori